Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca torniamo a parlare della drammatico incidente ai confini tra i comuni di Letterina, Pergine e Valdarno e Loro Ciuffenna, nel quale ha perso la vita un giovane cuoco residente in Valdarno che lavorava nell'osteria del Borro, Giuseppe Martigliannello. Nella tarda mattinata di oggi l'autorità giudiziaria, dato la nulla osta e la salma, potrà essere riconsegnata ai familiari che potranno pensare all'ultimo saluto che si svolgerà nella sua Sicilia. Vediamo il servizio. Giuseppe Martigliannello, 27 anni, originario della Sicilia, viveva a San Giustino Valdarno, lavorava come pasticcere all'osteria del Borro. È lui l'ultima vittima sulle strade a Rettine. L'incidente è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Giuseppe viaggiava a bordo di una moto con un amico, un 35enne, anche lui rimasto gravemente ferito. Per cause in corso di accertamento è finito fuoristrada lungo la provinciale 3, località Il Borro, nel comune di Loro Ciuffenna. Qui passano animali selvatici, cinghiali, a priori può succedere di tutto. Sono partite le ricerche dei carabinieri. Due sono stati ritrovati al mattino seguente. Giuseppe, ormai senza vita, probabilmente morto sul colpo, l'amico di 35 anni invece, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale delle Scotte di Siena, a bordo del Pegaso. Una notizia quella della scomparsa del giovane che ha colpito molto la comunità valdarnese. Nella serata di ieri anche la famiglia Ferragamo ha espresso tutto il suo cordoglio. La famiglia e tutta l'azienda sono rimasti molto colpiti dalla dolorosa notizia. Si leggono un comunicato e si stringono ai familiari del giovane ai quali esprimono le loro condoglianze. Un altro drammatico incidente si era invece consumato lo scorso agosto in Casentino, nel quale aveva perso la vita una 77enne. La procura di Arezzo ha aperto una fascicolo. Sentiamo l'appello dei familiari. Noi crediamo ovviamente nella giustizia. Sicuramente verrà fatto giustizia soprattutto per lui. A chiedere giustizia ma anche l'aiuto di chiunque possa aver visto qualcosa a quel drammatico giorno è il figlio di Giuseppe Baracchi, il 77enne morto lo scorso agosto schiacciato da un albero. Chiunque potesse fornire elementi utili a fare chiarezza di farsi avanti. Era il 21 agosto 2023 quando si è consumata la tragedia a Borgo e alla Collina nel comune di Castel San Nicolò. Quel giorno l'uomo si trovava a casa di amici di vecchia data. Qui è stato travolto da un albero che lo ha lasciato esamine al suolo. All'arrivo dei soccorsi ormai non c'era più nulla da fare. Ci spieghiamo un po' tutto che venga fatta chiarezza e quindi giustizia. Venga resa giustizia appunto ad un uomo che era appunto conosciuto per la sua generosità che sicuramente non meritava di essere trattato così. Secondo i familiari a tagliare quel fusto non sarebbe stato il 77enne. Anche perché mio padre conosceva molto bene i boschi. Cioè era una persona molto esperta. Non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Dopo la morte è stato aperto un fascicolo in procura con l'ipotesi di reato o di omicidio colposo attesa la relazione dell'esame autoptico. Mentre domani sarà conferito l'incarico al consulente tecnico della procura che dovrà chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Cosa deve essere chiarito rispetto alla dinamica? Beh, innanzitutto escludere ovviamente quella, diciamo, una notizia che è trapelata inizialmente cioè che fosse il signor Baracchi stesso a essersi reso autore di quel taglio, di quella pianta, di quell'abbattimento cosa che comunque già a prima vista ci è sembrata un po' del tutto inverosimile. Cioè il fatto che l'albero avesse colpito il signor Baracchi di spalle già sarebbe un elemento sufficiente di escludere questo però ovviamente abbiamo bisogno anche di riscontri molto più sostanziosi. Sempre in Casentino, i sanitari del 118 questa mattina sono intervenuti per soccorrere un uomo di 80 anni rivenuto a terra accanto alla sua vicina, arresto cardiaco. È successo in piazza Garibaldi a Poppi. L'uomo è stato rianimato e trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. E ancora cronaca, la polizia di Stato ha denunciato per ricettazione due cittadini stranieri trovati in possesso di 94 pacchi spediti da Amazon e sottratti ai corrieri incaricati delle consegne. Sono stati fermati in A1 con l'auto stracolma di pacchi Amazon, 94 in tutto, sottratti ai corrieri incaricati delle consegne. Per questo la polizia ha denunciato per ricettazione due cittadini stranieri. È successo lo scorso venerdì sera, quando una pattuglia della Polstrada ha intercettato e fermato un'auto con targa italiana e a bordo due persone. Ad insospettire poliziotti il fatto che l'auto, una station wagon, fosse stracolma di scatole con il famoso logo di Amazon trasportate sui sedili. Hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Nel corso della perquisizione sono così saltate fuori molte altre scatole, sempre con lo stesso marchio, risultate tutte sottratte ai corrieri che le avrebbero dovute recapitare agli acquirenti. I due avevano rubato soprattutto prodotti ai tech di grande valore commerciale e facilmente piazzabili sul mercato nero, tra cui 19 telefoni cellulari, 39 tablet e 7 notebook, un bottino insomma da oltre 70.000 euro. L'auto e la merce sono state sequestrate, mentre due sono stati denunciati per ricettazione. Una donna residente ad Arezzo è stata invece truffata dopo aver comprato online una stufa pellet. Dopo aver pagato 250 euro, infatti il sedicente venditore si è reso irreperibile, la stufa non è mai stata consegnata. Da qui la denuncia, la polizia postale è riuscita ad identificare l'intestatario dell'utenza telefonica. Gli agenti hanno poi scoperto che il titolare dell'account utilizzato sui social, beneficiario delle ricariche effettuate dalla vittima, aveva girato le somme ad altre due persone che le avevano utilizzate per aprire conti gioco per nessuna sala scommesse. La polizia quindi ha denunciato i tre per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Ed è in arrivo il maltempo in Toscana. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso il codice giallo di vigilanza per la giornata di domani per possibili temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore. Scatterà già a partire dalla mezzanotte di oggi e sarà in vigore su tutta la regione toscana per la giornata di venerdì. Sono possibili anche colpi di vento o grandinate. Parliamo adesso di odori molesti. Oggi è il giorno del Consiglio Comunale aperto per esporre il problema segnalato ormai da mesi da varie zone della città. Ci colleghiamo adesso con Greta Settimelli presente proprio in Consiglio Comunale. Sì Chiara, noi ci troviamo presso il Palazzo Comunale di Arezzo dove appunto alle 18 era in calendario questo Consiglio Comunale aperto quindi anche con la possibilità di intervento da parte dei cittadini proprio sul problema dei cattivi odori che interessa la zona di San Zeno. Ma non solo quella, ci sono tante altre località da cui sono provenute le segnalazioni. Una manifestazione si è svolta proprio sotto il Palazzo Comunale poco prima che iniziasse appunto l'adunanza con dei manifesti, con insomma delle richieste di risposte da parte dei cittadini. Intorno alle 17.30 però l'amministrazione comunale ha convocato gli organi di stampa affermando che diciamo la presentazione di un esposto da parte del Comitato Stop Puzzo Arezzo ha sostanzialmente un po' invalidato ecco questo dibattito che appunto si svolge in Consiglio Comunale. E quindi il Sindaco di Arezzo, in questo caso in rappresentanza della Giunta Comunale e non dei gruppi consigliari di maggioranza, ha detto che al termine proprio del Consiglio Comunale leggerà una dichiarazione e questo insomma è quello che è accaduto. Grazie Greta, ulteriori aggiornamenti ovviamente nel corso delle prossime edizioni della telegiornale. E parliamo adesso invece di caro carburanti, non si ferma infatti l'aumento del costo della benzina sempre più spesso sopra i 2 euro. Ne abbiamo parlato con un benzinaio che chiede a gran voce l'intervento dello Stato. Invece di prendere per i fondelli i cittadini, non voglio esprimermi in malo modo perché sarei maleducato, dovrebbero intervenire Stato, compagnie o chi di competenza e cercare di riportare la benzina a dei valori consoni in modo che la gente possa perlomeno vivere un po' meglio. Benzina, energia elettrica, metano, questo e quell'altro, io penso che sia difficile poi dopo vivere in un mondo così. Stato e aziende petrolifere, solo loro possono intervenire secondo i benzinai, ma insomma è un pensiero piuttosto comune per abbassare il prezzo del carburante che ormai è arrivato ad avere dei costi davvero insostenibili. Se tu lo domandi per la strada a un cane e dovesse parlare, quello lo sa, lo sa perché ormai lo sappiamo tutti. Ora che i benzinai non prendono niente da una vita e hanno un margine risicato, questo lo sappiamo tutti. Quindi nella componente prezzo i benzinai non c'entrano assolutamente niente perché con 35 euro al chilolitro, quindi ogni mille litri, che mediamente con questi prezzi sono 2000 euro nel self d'incasso, prendiamo 35 euro, noi non possiamo risolvere questo problema qua dei carburanti. Possiamo risolvere magari come sempre, se ci chiamano perché c'è le gomme sgonfie, diamo servizi agli utenti, se quello rimane a piedi andiamo a prenderlo. Risolvere questi problemi qui da una vita sì, ma mal riconosciuti. Lei diceva che il carburante ormai è diventato un po' come il pane quotidiano, di questo chi ci governa ne dovrebbe tenere conto. Appunto, il prezzo medio, la più grossa bufala è presa in giro ai cittadini che ci possa essere, è un fumo negli occhi logico, cioè tu metti il prezzo medio, la gente diceva che il prezzo medio ora la benzina cala, sì, colpifero, dall'agosto a ora ha fatto 15 centesimi i carburanti, il prezzo medio è chi lo cambia questo prezzo? Se noi dobbiamo prendere la merce e non decidiamo il prezzo, ci viene imposto, chi lo cambia? Compagnie e Stato. Lo Stato con le accise, ormai lo sappiamo, altissime, coliva al 22%, quindi il pane e gli alimentari al 4%, la benzina al 22%. In questo status quo di situazione la benzina è come il pane perché la usano per andare a lavorare moltissima gente, quindi che succede? Anche lì bisognerebbe, dato che le accise non le vogliono togliere, perché lì bisognerebbe rivedere anche questo discorso di vaggio sulla benzina, che porterebbe la benzina a scendere abbastanza, perché a questi prezzi qui non è sostenibile, dentro a noi che si vende, che dobbiamo esporci con un capitale per acquistare e poi il margine è veramente roba da fame, assolutamente, che le gestioni non stanno più in piedi, infatti vedranno in giro tutti quanto ne chiude e quanto lasciano gli impianti. L'albero d'oro di Lucignano presto potrà essere restaurato. Un importante ritrovamento è stato compiuto dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri che permetterà il recupero del preziosissimo capolavoro. L'imponente reliquiario è stato realizzato in due diversi periodi storici ed è arrivato a noi con alcune parti mancanti. Il prossimo lunedì all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze la presentazione dell'importante ritrovamento. E in occasione delle giornate europee del patrimonio, questo fine settimana la Fondazione Bruschi proporrà un ricco programma di eventi. Sabato alle 16, appuntamento con il laboratorio didattico, sperimentiamo la pre-storia per bambini e ragazzi curato da Lucio Miliciani. Domenica 24, invece alle 11, sarà offerto al pubblico un intervento musicale organizzato in collaborazione con l'Associazione Orchestra Giovanile di Arezzo. E alla Casa Pia, invece, si torna al lavoro per il Calcit. Le ospiti della Casa di Riposo Fossombroni hanno accolto l'invito a contribuire alla seconda edizione del progetto Mani e Cuore per il Calcit e di conseguenza sono tornate ai ferri per realizzare le coperte di lana che saranno messe in vendita nel maggio 2024 in Piazza Grande con l'obiettivo di raccogliere fondi per acquistare nuove strumentazioni per l'ospedale San Donato di Arezzo. E restiamo nel cuore della città, in Duomo, ieri la tappa retina del tutto scano del coro di Papa Francesco per ricordare dieci anni dalla scomparsa il Cardinal Bartolucci. Un Duomo gremito per un'occasione unica, poter ascoltare il coro papale più antico del mondo. Ad Arezzo, in Cattedrale, il concerto della Cappella Musicale Pontificia Sistina, un tour toscano iniziato a Firenze e terminato a Prato per celebrare la figura del Cardinale Domenico Bartolucci a dieci anni dalla sua scomparsa. Sì, effettivamente nel decimo anniversario della sua morte la Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci ha voluto dare a questo grande servitore della bellezza della liturgia della Chiesa un omaggio nella sua terra. E quindi questo tour in Toscana è molto commovente anche perché ricorda la figura di qualcuno che proviene da questa terra, è stato ordinato sacerdote a Firenze e poi ha fatto una carriera straordinaria a servizio della Santa Sede a Roma producendo musica di ogni tipo specialmente musica sacra e quindi una figura eccezionale che merita di essere ricordata e celebrata. Un coro maschile composto da 50 elementi 27 cantori fanciulli, le voci bianche e 23 cantori adulti specializzato nella musica polifonica diretto da Monsignor Marco Pavan. Bartolucci molto giovane, diciamo venne a Roma all'età di 39 anni e divenne maestro perpetuo della Cappella Sistina quindi i legami regionali si interruppero ma mantenne il cuore sempre nei confronti di Firenze e quindi come non ricordarlo nella sua terra d'origine in questo anniversario di 10 anni dalla morte soprattutto perché è stata una figura che non solo come direttore grande della Cappella Sistina per più di 40 anni ma anche poi come cardinale quindi Papa Benedetto XVI volle dargli questo riconoscimento all'età di 93 anni proprio per ricordare quanto la Chiesa sia stata grata all'opera di questo sacerdote musicista che ha dedicato la vita alla musica sacra. È proprio un segno e un dono di legame importante del quale siamo onorati e è un'occasione anche in qualche modo di vivere coralmente un inizio del cammino della diocesi in questo nuovo anno pastorale quindi è quasi un richiamo a camminare come un bel coro che canta insieme ciascuno con la propria voce ma camminando insieme così come ci chiede il sinodo e allora viviamo con gioia questa serata e sia di stimolo anche a tutta la bella espressione e realtà dei cori parrocchiali e del coro diocesano. Il repertorio ha visto brani di Bartolucci De Vittoria e Perosi insieme ai brani della polifonia. Ad Arezzo tra il primo e il secondo tempo del concerto anche l'esibizione all'organo appena restaurato di Josef Solkoll primo organista della Basilica di San Pietro. A Cortona invece la mostra personale di Christine Noel Qual è lo spirito delle sue ombre? È di riuscire a far diventare leggero il metallo il metallo che in genere è molto pesante mischiandolo con l'incisione a bulinatura il colore e riuscire a trasmettere un senso di leggerezza, di amore. È illoggiato del Teatro Signorelli di Cortona ad ospitare la mostra personale di Christine Noel un'esposizione organizzata dal circolo culturale Gino Severini. Di origine belga, ormai naturalizzata italiana Christine Noel vive e lavora a Perugia e vanta un curriculum straordinario per studi ed esperienza una tecnica antica la sua che stupisce per strutture e bellezza a Cortona una serie di opere che racchiudono la suggestione della metodologia artigiana con l'ispirazione dell'artista. C'è anche la libertà di amore, la libertà degli omosessuali la libertà dell'amore per tutti quanti e anche per la natura e poi comunque c'è questa tecnica, non è che ho inventato niente sono le tecniche che risalgono al Medioevo che sono le tecniche delle icone che io solamente trasformo per fare cose moderne, cose mie. Restiamo in Val di Chiana la città di Foiano si candida centro di riferimento dell'informazione e istituisce il premio giornalistico nazionale Città di Foiano della Chiana intitolato a due grandi firme del giornalismo aretino Giancarlo Sbardellati e Enrico Nottolini il premio promosso dal Comune con il patrocinio della Regione e dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. E adesso la pagina sportiva, il calcio è attiva la prevendita per la gara Virtus Entella-Rezzo in programma sabato al Comunale di Chiavari con inizio alle 18.30 due i precedenti per l'Arezzo in casa della Virtus Entella il primo settembre 1968 l'altro il 18 aprile 2019 sempre in Serie C la squadra allenata da Del Canto perse 2 a 1 questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci Arrivederci Grazie 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 Grazie